Mister Torti c'erano i propositi per chiudere questo campionato ma in realtà poi l'Avezzano non è sceso subito in campo. No, nei primi minuti siamo rimasti nello spogliatoio e ho avvertito che giustamente il penne era una partita dove si giocava l'ultima chance per poter eventualmente raggiungere la salvezza diretta. Ma noi loro l'hanno fatto vedere questo, noi non l'abbiamo fatto vedere. La ripresa, compreso tutti i 21 minuti che sono stati giocati, la mia squadra sembrava non essere in partita, poi al secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e sicuramente la squadra è stata molto più prepositiva. Però la squadra come la nostra che deve chiudere il discorso non è quello l'atteggiamento giù perché qui non ti regala niente nessuno, come è giusto che sia. La matematica dice che ancora non abbiamo raggiunto niente, domenica abbiamo un'altra partita difficile, però dobbiamo andare con un piglio diverso. Il colpio è che abbiamo messo in tutte le altre partite. Forse questa è stata l'unica partita dove veramente la mia squadra nei primi minuti è come se non fosse scesa in campo. Per cui dobbiamo cambiare questo atteggiamento se vogliamo veramente festeggiare poi Aldemarsi. L'ultima dell'indisponibilità recupera? Beh, a parte due squalificati, Dos Santos e Laguzzi, Lombardo non credo, Crasse non credo, però non è questo. Non faccio perché la rosa della squadra è una rosa abbastanza importante, infatti il secondo tempo l'ha dimostrato, per cui non dobbiamo piangersi addosso su queste cose qui. Noi dobbiamo andare avanti, cercare di chiudere appunto il discorso, dobbiamo cercare di vincere la partita domenica, quantomeno andare a fare il risultato perché nelle nostre corde l'abbiamo sempre fatta, con un atteggiamento diverso da quello di oggi. Grazie.